Ce ne siamo occupati qualche mese fa e finalmente per Natale il comune di Fano ha regalato alla città la riqualificazione della rotatoria di via 4 novembre contestata sui gruppi fanesi per i lavori mai iniziati il 23 dicembre operai e addetti al cantiere in tempi record hanno dato nuova vita alla rotonda un progetto quello dell'abbellimento di queste strutture iniziato già lo scorso anno e che finalmente vede la conclusione finalmente prende forma ed è una forma molto cara a noi città perché la forma dello stemma della città di Fano ex concordia felicitas per quanto riguarda l'idea iniziale era un'idea con uno stemma con una rotatoria piatta con una forma appunto lineare cosa che in corso d'opera è stata modificata perché per renderlo più visibile è stata sono state utilizzate delle pietre di colore bianco e rosso proprio tipiche del nostro stemma e sopra elevando un po quello che era il livello quindi rialzandolo naturalmente è stato previsto anche il brand di Fano che è un elemento caratterizzante della nostra città è molto importante è cosa che abbiamo dotato ad oggi non riusciamo a dire che è completata perché manca una sostanziale quantità di pietre bianche soprattutto che dovranno dotare le parti laterali per rialzare ulteriormente il brand e che sia appunto più visibile durante la riqualificazione dell'opera dal costo di 30.000 euro si è intervenuti anche per la messa in sicurezza di alcune zone pericolose del tratto sia per gli automobilisti che per i pedoni e i ciclisti per quanto riguarda via pertini è stato fatto è stato tolto il senso di precedenza ma ha fatto uno stop arretrato proprio per mettere più in sicurezza quello che era la viabilità e nello stesso tempo in via 4 novembre è stata un po decelerata la velocità con degli interventi per cui questo ha reso sicuramente più sicura la circolazione prossima riqualificazione per il prossimo anno la grande rotatoria del quartiere di Sant'Orso successivamente a questo intervento procederemo con quella di all'uscita della superstrada di Sant'Orso e tra l'altro proprio poco dopo le feste ho già un appuntamento con l'architetto e con tutta la struttura per definire i vari step naturalmente ringrazio l'assessore Tonelli che ha seguito tutti i lavori prima che del mio arrivo è stata fondamentale proprio per arrivare a questa sintesi grazie grazie grazie